Amici di Fuglio e le sue ricette benvenuti oggi andremo a preparare un piatto gustosissimo con solo i tre ingredienti molto molto semplici iniziamo subito una bella cipolla la laviamo la peliamo e la spacchiamo a metà adesso andremo a fare delle fette sottilissime questo passaggio è fondamentale perché in questo modo con questo taglio la cipolla si cuocerà e diventerà morbidissima adesso andiamo ai fornelli padella burro facciamo sciogliere cipolla e iniziamo la cottura a fiamma dolcissima per fare in modo che la cipolla si appassisca senza bruciarsi aggiungiamo un pizzico di sale in maniera tale che tira fuori tutta l'acqua e diamo un tocco di piccante aggiungendo il peperoncino nel mentre acqua a bollire aggiungiamo il sale grosso giù le linguine e le facciamo cuocere affondatele subito per uniformare la cottura perfetta in questo modo guardate la cipolla come è diventata quasi una crema adesso aggiungiamo i pezzettini di salsiccia al pepe nero a fiamma un po più vivace e la facciamo rosolare sbriciolatela bene 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 con le mani in questo modo perfetto prendendo una salsiccia che abbia un giusto equilibrio tra carne e grasso e la facciamo cuocere a fiamma vivace perfetto adesso è il momento di mettere giù gli le linguine e iniziare a spadellare aggiungendo di tanto in tanto l'acqua di cottura in maniera tale che andiamo a legare la pasta a formare una bella cremina fiamma alta fiamma vivace perfetto in questo modo spadellate di tanto in tanto adesso aggiungiamo il formaggio da far sciogliere dentro in questo modo lo fate sciogliere mantecante in maniera molto molto veloce sembra fiamma vivace adesso guardate come si è sciolto bene una bella cremina spegniamo facciamo raffreddare un po la pasta prima di andare a mantecare alla fine con una bella spolverata di parmigiano reggiano facciamo mantecare il tutto formiamo questa bella cremina guardate qua andiamo a inviattare impiattiamo con un bel nodino al centro la cremina sopra il piatto a questo punto è pronto guardate che è bello soprattutto è buonissimo un piatto davvero semplice da fare gustosissimo soprattutto in queste giornate un po fredde che stanno per arrivare già sono arrivate io vi saluto mi invito a seguirmi nei miei canali social ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta